Coglione, stai su Instagram a parlare, se hai qualcosa da dire perché non mi mandi un messaggio? Ti mando io la mia posizione, vediamoci Meny Fresh, vediamoci, poi ne parliamo No no ma no, è chiaro, è chiaro che tu sei incazzato perché ho scopato la tua tipa Non è male, non è male, scopa bene Ehi bello figo coso, colui che non sa parlare, quello che non sa formare una cazzo di frase in modo decente, pussy Ricordati che prima lei, quella stupida bitch è passata da questo cazzo, spero tanto che l'hai limonata, è buono eh Non ha problemi a incontrarti, sai dove cazzo vivo, lo sai dove sono, se vuoi vi chiamaci a metà strada, prima che parta a salto vengo e ti rompo il culo, hai capito? Vedi che sei deficiente e non capisci un cazzo, non è un discorso che è passato prima da te e poi è arrivato a me, intanto è lei che mi vuole E poi è normale che sia passato prima da qualcuno, che cazzo me ne frega Cioè queste fighe vanno e vengono, cioè tu arrivi, scopi e buono, finita La prossima tipa che avrai, se la sarà scopata qualcuno E probabilmente arrivo io e non la scopo ancora, però non è quello il discorso Cioè, e non dimenticare mai il mio nome, me ne frege Lo sai come mi chiamo E probabilmente anche la tua tipa sa come mi chiamo Per quello Lo sono questo, capito? Ma tanto prima o poi ti becco eh, ti becco fuori, prima o poi ti becco Ladies and gentlemen, Fresh News, hanno chiuso il profilo della mia ex bitch Ma sapete cosa? Cazzi suoi News numero 2, domani, che sarà mercoledì Finalmente partirò per Seattle Così vi porterò contenuti ancora più freschi sul canale Ho già le valigie pronte, quindi sono veramente carico La ciliegina sulla torta, sapete qual è? È che spero di beccare con la pussy ass bitch di un bello figo prima della mia partenza Così magari avremo anche un face to face e vedremo che cazzo accadrà Ciao